C'è un fiume di cocai che sta per invadere l'ancià, mentre una squadra di polizioti senza paura e combattere la guerra senza speranza. C'è un uomo che arriva da Ortolo, il suo nome è Romano e custodisce segreti talmente scontati da far tremare l'internazio. L'andrangheta vuole il controllo della città, i cartelli colombiani vogliono il monopolio del mercato della droga, i servizi segreti deviati vogliono i dossier di Romano. A Roma dai no! A Ortona è guerra aperta! E ci testa solo un mod pass qua! A mano armata! A davvero te l'angià! A Roma dai no! A Roma dai no! A Roma dai no! A Roma dai no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.